vuoi creare un gruppo con tutti gli amici e colleghi presenti su whatsapp ma non sai come fare non preoccuparti ti aiuto io qui ti farò vedere come creare un gruppo su whatsapp come prima cosa apri whatsapp e clicca in alto a destra sui tre puntini quindi pigia su un nuovo gruppo seleziona tutti i contatti che vuoi facciano parte del gruppo e clicca sulla freccia in basso a destra ora non ti resta che dare un nome al gruppo ed aggiungere la foto che rappresenterà il gruppo stesso se vuoi aggiungere altri contatti una volta creato il gruppo apri whatsapp quindi apri la chat del gruppo e clicca in alto a sinistra sul nome del gruppo qui è la possibilità di aggiungere altri partecipanti rimuovere un contatto o renderlo amministratore e cliccando in impostazioni gruppo poi su invio messaggi e selezionando solo amministratori puoi far sì che sul gruppo possano scrivere solamente gli amministratori del gruppo bene ti ho fatto vedere come creare un gruppo whatsapp se il video ti è piaciuto iscriviti e noi ci sentiamo alla prossima un saluto da simone ciao